In occasione della giornata della memoria che ricorre il 27 gennaio per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni inflitti ad altre minoranze sotto il nazifascismo, sarà aperta dal prossimo martedì 20 gennaio presso la biblioteca provinciale Antonio Mellusi di Benevento la mostra bibliografica dal titolo I giornali della memoria, le leggi razziali nelle collezioni della biblioteca provinciale di Benevento. Così la provincia ricorda il settantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Il progetto espositivo si incentra sull'inestimabile e poco noto patrimonio emerografico che la biblioteca provinciale custodisce inerente a articoli sulle leggi razziali fasciste promulgate nel 1938. Un'accurata selezione di periodici dal 35 al 43 è testimonianza dettagliata e sbalorditiva di come il regime fascista cercasse attraverso la stampa di affermare la necessità di varare leggi in difesa della razza e successivamente di applicarle. L'iniziativa vuole essere un ulteriore tassello per la ricostruzione della memoria collettiva che la Epsilon promuove per valorizzare il patrimonio della biblioteca provinciale Mellusi. L'evento espositivo terminerà il 28 gennaio.